Cambiamo completamente argomento, è un tema che merita tutta l'attenzione per gli sviluppi che sta avendo, parliamo di Fridays for Future che sembra crescere senza sosta, le ultime manifestazioni i lombardini hanno trascinato davvero milioni, proprio letteralmente milioni di giovani per le piazze di tutto il mondo, come si sta evolvendo il movimento e cosa possiamo prevedere per il futuro? Innanzitutto ci tengo a precisare che le nostre analisi sono inerenti a Fridays for Future, quindi a questa organizzazione e ai suoi scopi, mentre mi sento di dissociarmi da tutte quelle manifestazioni di manifesta indecenza e arroganza che se la prendono con il personaggio simbolo della Greta Thunberg, che per quanto mi riguarda potrebbe essere e anzi secondo me lo è davvero in perfetta buona fede, quindi quello che seguirò a dire non ha a che fare con la persona di Greta Thunberg, ma con quello che sta dietro questa organizzazione. Ho delle notizie da aggiungere, perché ne abbiamo già parlato in passato di questo argomento. Un paio di interventi, già i mesi scorsi, già un paio di interventi, quindi i nostri spettatori possono andare a vedere i video proprio su Greta, video che stanno aumentando anche adesso le visualizzazioni, quindi evidentemente nuovi spettatori, nuovi ascoltatori del Vaso di Pandora lo stanno scoprendo. Prego, l'ho interrotta un attimo. Io voglio ricordare soltanto brevemente di passaggio, per rispondere a qualsiasi accusa potenziale di complottismo che potremmo ricevere da più parti, che esiste un documento scritto nero su bianco dell'ONU, che si chiama il New Climate Economy, che potete trovare su internet, in cui si dice senza mezzi termini che per rilanciare il capitalismo globale, che è in crisi dal 2008, ci saranno 90 trilioni di investimenti, che è più del PIL mondiale, nei prossimi 15 anni, soltanto nel settore della cosiddetta economia verde. E poi il documento specifica che questi investimenti non saranno atti a curare, a prendersi cura dell'ambiente, assolutamente no, saranno investimenti in imprese del tipo lo stoccaggio e la cattura del carbonio, che significa prendere l'anidride carbonica nell'aria e metterla sotto gli oceani, recupero avanzato del petrolio, bioenergia, che consumerà quindi le risorse ancora dei terreni e invece di alimentare i poveri del mondo produrremo erbe, cibo da utilizzare come biocarburante, decarbonizzazione totale rapida, pagamenti per servizi ecosistemici, energia nucleare a fissione e tutta una serie di altre soluzioni che sono del tutto ostili con l'ambiente. Quindi io prego quelli che accusano di complottismo di rispondere al New Climate Economy, perché è un documento scritto nero su bianco e quindi voi dovete rispondere di questo documento. Dite che è un movimento spontaneo, Fridays for Future, dite che è un movimento per la tutela del clima, allora mi dovete rispondere perché l'ONU ha già deciso che ci devono essere 90 trilioni di investimenti in questi settori che, perdonatemi, ma con l'ambiente non hanno proprio niente a che fare, se non con gli interessi appunto di un capitalismo agonizzante che si deve riprendere con questo nuovo settore, perché poi a pagare tutti questi servizi che ho detto saranno i cittadini attraverso le nuove tasse e le imprese, non stiamo a negare, chiunque produrrà un'attività di qualsiasi tipo dovrà pagare delle tasse affinché certe aziende, catturino il carbonio nell'atmosfera o recuperino il petrolio, facciano altre attività come la decarbonizzazione totale rapida, eccetera. Quindi un nuovo green business per cui hanno già preparato, e lo stesso governatore della banca di Chilterra lo ha dichiarato da poco, degli strumenti finanziari verdi, cosiddetti, pronti a finanziare tutto questo processo e ad aprire una nuova spirale di speculazione sui prodotti verdi. Quindi questo è un dato di fatto di partenza, c'è un documento che dice queste cose. Poi ci sono nuovi scenari in evoluzione, successivamente a queste manifestazioni, siccome il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, parti di verità stanno emergendo e gli elementi di criticità iniziano a sentirsi, ad ascoltarsi, in giro, sulla rete, eccetera. E allora, ecco qual è la notizia che vi porto in aggiunta, è che Avats ha fatto una proposta che è a dir poco incredibile. Ora ricordiamo, di Avats ne avevamo già parlato brevemente in una delle scorse puntate, quando stavamo trattando il tema della legge europea sui diritti d'autore, quella legge che metterebbe il bavaglio e la censura a buona parte delle web tv che oggi fanno controinformazioni in rete. E in quell'occasione avevamo detto che Avats era intenzionata a collaborare con Macron, in particolare la Francia, per creare questi autoti che decidessero chi o quali profili Facebook spargesse lo fake news e odio, i quali invece potevano parlare. Ma Avats è anche stata responsabile della chiusura di 23 pagine Facebook e profili prima delle elezioni europee, con 5 milioni e mezzo di follower perduti in una sola volta, sempre con lo stesso pretesto di chiudere le voci d'odio, le voci di fake news, eccetera. Quindi questo è tanto per ricordare chi era Avats. Ecco, un mio caro amico che è iscritto per sondare il terreno in Avats, mi manda l'altra volta una mail che, girandola, inoltrandomela direttamente da Avats e questa mail ha poco dell'incredibile per quello che contiene all'interno. Quindi è una comunicazione di Avats per gli iscritti. Avats, ricordiamolo, è un'organizzazione internazionale presente in tantissimi paesi diversi con oltre 50 milioni di iscritti. Quindi stiamo parlando di un colosso, stiamo parlando di una cosa da niente. Ecco, in questo comunicato che questi 50 milioni di iscritti hanno ricevuto c'era scritto quanto vi sto per leggere. Iniziano dicendo ragazzi e ragazze, quelli che manifestano per il clima sono sotto attacco. Nuove indagini hanno appena scoperto che potenti reti di negazionisti del cambiamento climatico e dell'ultradestra si sono messe a diffondere calugne sui coraggiosi giovani che hanno ispirato milioni di noi a marciare, insinuando che siano marionette finanziate da miliardari e sostenendo che siano indottrinati o vittime di abusi, diffondono ovunque la disinformazione su questi ragazzi. È solo un esempio di come l'estrema destra stia usando i social per screditare chi osa alzare la voce contro il sistema, spacciando bugia ai cittadini di tutto il mondo. E dice, ma abbiamo trovato un modo straordinario per agire. E questo straordinario lo scrivono a caratteri maiuscoli, con due asterischi vicini. Quindi si rendono anche conto della straordinarietà appunto dei metodi. E dicono, è bastato un nostro piccolo gruppo investigativo in Europa per smascherare reti di disinformazione che avevano generato 3 miliardi di visualizzazioni in appena un anno. Le abbiamo denunciate sui social, le abbiamo denunciate sui giornali, le abbiamo segnalate a Facebook e in pochi giorni sono state chiuse. E questo in solo sei paesi europei. Ora dobbiamo allargare la ricerca a tutto il mondo. Come se non bastasse. Donando ora tutti insieme possiamo cominciare subito a indagare su queste grandi reti che spargono bugie e odio su qualunque cosa, dal cambiamento climatico ai rifugiati. Il nostro movimento è in prima linea nella resistenza globale contro queste bugie tossiche. E con abbastanza fondi possiamo potenziare il team e metterci subito al lavoro. Fine della citazione. Ecco, non so se ho reso l'idea della gravità di queste affermazioni. Oltretutto ricordando che è un'associazione con 50 milioni di iscritti, se raccoglie anche un solo Euro da ciascuno di questi, mette su un capitale di 50 milioni di Euro e a quel punto è uno scherzo far chiudere profili, far partire denunce sui giornali, eccetera. Ma la cosa che mi sconvolge ancora di più è quasi l'ostentare con orgoglio il fatto di essere riusciti a far chiudere questi profili da 3 miliardi di visualizzazioni in sei paesi e ancora più sconvolgente è il fatto che i contoni entusiastici si rivolgano agli iscritti per perorare questa causa. Ma sì, finanziateci per chiudere la bocca a altri cittadini. Qui siamo proprio nell'apoteosi del totalitarismo perfettamente realizzato, dove l'organo censore non è un organo visto come opprimente, ma è addirittura un organo finanziato spontaneamente dall'autotassazione dei cittadini che vogliono far chiudere la bocca ai propri vicini. Siamo veramente in una situazione ironica, perfettamente ironica. E quindi poi vanno avanti nella mail e scrivono anche con abbastanza fondi, dicono quattro punti, potremmo potenziare il nostro team di investigatori per far chiudere queste reti e insegnare ad altri come scoprire e denunciare la disinformazione. Sentite qui, questa è politica, scusate, questa è psicopolizia, questa è polizia politica internazionale. Insegnare anche ad altri come scoprire e denunciare la disinformazione, avviare indagini urgenti in tutto il mondo per proteggere il nostro pianeta e la democrazia, così ce la mettono insieme a caso. Fare pressione sulle aziende dei social media affinché risolvano il problema e spingere i governi ad approvare le norme necessarie, quindi quelle norme sulle authority che dicevo prima. Supportare un team che su scala globale produca report dettagliati e informati e informi la stampa per denunciare la disinformazione e l'opinione pubblica. Quindi addirittura creare un pool internazionale permanente di censura continua che immediatamente scovi le canaglie e le denunci sui giornali. La definirei un marketing di inquisizione globale, direi? Sì, siamo alla nuova inquisizione globale, con il supporto però di tutti i suoi finanziatori che sono i cittadini. Non ci sono solo i poteri forti dietro qua, stiamo parlando anche di semplici cittadini che finanziano e la cosa drammatica è proprio questa. Direi i lombardini che puntano molto sulla sprovvedutezza dell'opinione pubblica dei cittadini anche, direi, a questo punto. Puntano molto su questo. Certamente, perché il vero problema non è combattere chi dà false informazioni, il vero problema è chi è che stabilisce quali informazioni sono vere e sono false. Quale autore può permettersi di chiudere la bocca a chi sparge bugie? E cosa vuol dire poi a chi sparge odio? L'odio come l'amore non sono categorie politiche, sono categorie emotive. Mettere nella politica significa fare propaganda, anche questo andrebbe capito. Quindi il vero pericolo è questo, che non esiste un organo indipendente, censore, che possa decidere a priori qual è la verità e qual è la falsità. Purtroppo tutte le istituzioni umane sono pervase anche dalla possibilità non solo di sbagliare, ma anche dal fatto che le persone che compongono quelle stesse istituzioni, in quanto tali, hanno un loro pensiero, hanno delle loro idee e quindi non sarà mai perfettamente oggettivo un giudizio. Quindi questo tipo di operazioni sono perfettamente totalitari, dittatoriali, non sono accettabili in una democrazia, nonostante loro si richiamino ad essa. Guardi, questa è veramente una perla anche le sue considerazioni finali. Sicuramente ritorneremo su Fridays for Future perché… Oh no, ma c'è ancora da dire, ha ancora delle cose da dire. Ok, allora le lascio un altro po' di tempo per completare. Altre 5 minuti perché due specificazioni secondo me sono importanti a questo punto, per non cadere, per non cadere in errore, per non cadere nell'errore che i nostri stessi avversari poi ci accusano. Io credo e lo dico qui chiaramente, anzi non solo credo, io so perché vedo i dati e leggo i dati, che il problema ambientale assolutamente esiste, non è che non esiste, il problema ambientale c'è ed è gravissimo, è gravissimo, ma non è nei termini in cui il potere ce lo viene a descrivere. Cioè il problema non è il riscaldamento globale tanto le emissioni di CO2. Il vero problema che nessuno si guarda bene di raccontare di questi fantomatici FFF è il problema dei limiti dello sviluppo, signori. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo adottato come società umane un sistema economico e sociale che si chiama capitalismo, il quale non può esistere senza che l'economia cresca in termini di volume di merci. Perché non può esistere senza crescita il capitalismo? Perché a livello individuale il capitalismo che cos'è? Sono tante imprese private, indipendenti che si fanno concorrenza. Ora, se un'impresa si pone come obiettivo realizzare un profitto costante nel tempo, quella impresa prima o poi verrà scalzata. Perché le imprese che invece puntano ad aumentare i profitti diventano più forti e scalzano quelle potenzialmente che si accontentavano di profitti costanti. Quindi la legge della concorrenza impedisce alle imprese di puntare a profitti costanti, ma richiede che ci sia un continuo aumento degli utili. Questo a livello aggregato, sommando l'azione di tutte le imprese, fa sì che i sistemi economici e capitalistici debbano crescere necessariamente. Non possono sopravvivere in un sistema di crescita zero. Ma la grande contraddizione è che un sistema finito di risorse come la Terra non può sopportare un sistema economico che punta alla crescita infinita. E la brutta notizia è che i limiti dello sviluppo, appunto, ovvero il momento in cui abbiamo raggiunto la saturazione dell'utilizzo delle risorse della Terra, sono stati raggiunti alla fine del suo rosso secolo. Sono quindi vent'anni che preleviamo dall'ambiente più di quello che noi diamo. I grandi problemi ambientali dunque sono ben alti da quelli che la narrazione ufficiale ci racconta, sono quelli che la narrazione ufficiale ci nasconde. Ad esempio è l'inquinamento delle falde acquifere, l'inquinamento dei suoli, l'inquinamento dei mari, delle plastiche, dei pesticidi, i prodotti chimici, le scorie nucleari, anche questo non se ne sente mai parlare. Poi un secondo punto, la geoingegneria, questo figurati è tabù assoluto per gli ambientalisti, ma ragazzi le sperimentazioni climatiche per costituire armi climatiche sono una minaccia potentissima perché vanno a colpire la biosfera, vanno a colpire l'intero ecosistema, un ecosistema di cui equilibri nemmeno si conoscono tutti oggi, per cui se tu tocchi qui non sai cosa succede dall'altra parte, eppure lo continuano a fare. Le guerre. Signori, le guerre inquinano, ma inquinano tremendamente perché distruggono tutte le opere umane, ma distruggono anche gli equilibri ecosistemici delle zone, e di questo non se ne sente mai parlare. Il consumo degli animali, oltre il tasso naturale di rigenerazione, pensiamo alla pesca, tre quarti delle aree di pesca del mondo sono andate esaurite o in via di esaurimento. E infine il consumo delle risorse naturali non animali, che anche quelle, come ad esempio pensiamo al ferro, una volta che abbiamo estratto tutto, se noi non abbiamo pensato a riciclarlo, non ce l'abbiamo più poi. Quindi l'estrazione delle risorse naturali in maniera dissennata, e lo sfruttamento dei territori, dei terreni, scusate, in maniera dissennata, che porta all'inaridimento dei suoli coltivabili. Le Nazioni Unite lo dicono, abbiamo perso il 30% dei territori coltivabili negli ultimi 25 anni. Questi sono i problemi veri ambientali. Io vorrei sentire questi signori del Fridays for Future, vorrei sentirli rivendicare queste politiche, accusare il sistema capitalistico apertamente, chiamandolo con il proprio nome. Vorrei sentirli rivendicare un sistema che non si fondi più sulla concorrenza, ma sulla condivisione delle risorse e delle conoscenze. Vorrei sentire rivendicare la programmazione dell'estrazione delle risorse in maniera compatibile con il tasso di rigenerazione naturale delle stesse. Vorrei sentirli rivendicare la fine dell'utilizzo dei pesticidi chimici in favore di quelli naturali che già esistono. Vorrei vedere piani governativi per il riciclo non del 10%, ma del 100% di tutte le risorse. Vorrei sentirli rivendicare che tutti i processi produttivi, in special modo delle tecnologie avanzate come i computer, siano pensati in modo da usare le risorse con più efficienza e da assemblare gli elementi all'interno degli stessi prodotti finiti, in modo tale da renderli facilmente riciclabili quando poi questi sono esauriti. Tutte cose che si possono già fare, ma che richiederebbero, è questo bisogna dirlo, un ridimensionamento dello stile di vita, perché questi sono costi, sono maggiori costi e io non so fino a che punto questi manifestanti siano disposti a rinunciare a comprarsi un iPhone ogni anno o a comprarsi vestiti, magliette, pantaloni a 3 euro dai primarch della situazione. E questo non è sostenibile, signori, non è sostenibile dal punto di vista del lavoro, perché se tu paghi un pantalone a 3 euro c'è qualche schiavo che lo ha fatto per te da qualche parte del mondo e anche perché dal punto di vista ambientale, se noi continuiamo a pagare, come negli Stati Uniti, la carne meno della frutta, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non può funzionare dal punto di vista ambientale. Quindi spero di avere fatto la chiarezza sul punto, il problema ambientale esiste, è grave, ma totalmente su temi diversi da quelli che sentiamo dire solitamente. In una parola il problema ambientale è il problema dei limiti dello sviluppo, la CO2 e poi viene dopo. Tanto il problema della CO2 noi lo possiamo superare in un altro modo, nel senso che sia che sosteniamo che causi il riscaldamento climatico, sia che sosteniamo che invece non abbia effetto. Il punto è che le emissioni di CO2 sono derivanti dal uso di petrolio, di carbone, di gas naturale, tutte risorse energetiche non rinnovabili e per una questione di sicurezza nazionale, prima di tutto, e per una questione di autodeterminazione maggiore dei popoli, quindi dove non devi dipendere dai pesi che ti forniscono petrolio, carbone, eccetera. Così come per una questione anche di sicurezza industriale, nel senso che se venissero a mancare queste fonti di energia finirebbe il periodo industriale e torneremo al periodo agricolo. Per queste ragioni si pone la necessità in ogni caso di passare ad uso di energie alternative e rinnovabili. Quindi mettiamoci una pietra sopra invece di farci la guerra su questo tema inutile e facciamo la guerra a quei quattro punti che ho detto prima che sono i problemi ambientali e rivendichiamo l'utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili che sono disponibili in tutte le aree del pianeta senza necessità che un paese dipenda dall'altro. Perfetto. Lombardini, un intervento manifesto, il suo quindi l'ho lasciata andare avanti a sviluppare tutti i concetti e a esporre tutti gli elementi perché meritava assolutamente. Volevo solo fare un piccolo riallacciarmi al costo della carne che è superiore a quello della frutta e quindi vuol dire che il sistema chiaramente non può andare avanti e evidentemente ci sono dei grossissimi problemi in questo percorso. Un dato mi ricordo che mi è balzato molto agli occhi quando abbiamo fatto una puntata proprio sui sistemi di allevamento, di coltivazione di allevamento, che nel sistema intensivo di allevamento americano un chilo di carne ha comportato l'utilizzo e il consumo alla fine di tutta la filiera di 17 mila litri d'acqua. Quindi noi in America e in Europa con gli allevamenti del sistema europeo circa 13 mila litri d'acqua. Quindi quando compriamo al supermercato un chilo di carne sono stati utilizzati in Europa 13 mila litri d'acqua in tutta la catena e la filiera. Quindi io direi che rilacciandomi a quello che diceva il dottor Lombardini dobbiamo veramente cominciare a porci delle domande molto serie e molto profonde. Possiamo continuare qui quindi questo intervento manifesto che dicevo il dottor Lombardini.